Benvenuti alla celebrazione del sostizio d'estate 2023. Iniziamo subito con l'affermazione di Cancer. Costruisco una casa illuminata e vi risiedo. Il segno del cancro marca la fine dell'espansione della luce solare, come sappiamo, che aveva preso la massima spinta durante il segno precedente dei gemelli e dunque il 21 di giugno sarà il momento di massima espansione della luce, massima durata del dì. Il sostizio d'estate, che è la porta degli uomini, si trova proprio all'inizio dell'entrata del sole in questo segno e corrisponde al giorno più lungo contrapposto alla notte più corta dell'anno, come appunto poc'anzi dicevo. Simbolicamente questo significa limitazione. Non si può andare oltre un dato punto. Ogni traiettoria ha il limite datogli dalla spinta dinamica che ha ricevuto. Nel sistema solare tutto sottostà alla legge del ciclo e del ritmo, dunque anche a questo ciclo del sostizio che determina appunto questa massima espansione della luce. Il cancro rappresenta l'entrata nel mondo delle forme durante l'incarnazione fisica. È il segno opposto al capricorno che è per l'appunto la porta degli dèi, che è l'entrata nella vita dello spirito. Si dice che il Cristo dette a San Pietro le chiavi del cielo e della terra, cioè gli dette le chiavi di queste due porte, e attraverso il cancro l'anima discende sulla terra per prendere corpo alla sua prima incarnazione, che è la sua morte spirituale da quel punto di vista. E attraverso il capricorno ritorna al cielo e si libera dalla forma, avendo redento l'aspetto materia. E questa è la fine di tutti i cicli quando finalmente, avendo compiuto la nostra opera evolutiva, possiamo ritornare come monadi arricchite da una personalità integrata alla casa del padre. Dunque, il cancro è uno dei bracci della croce cardinale. Un secondo braccio è la riete, il segno del principio, della vita interiore per l'aspirante nello stadio prenatale o involuzione, e il primo passo dell'anima verso la liberazione spirituale. Un terzo braccio è la bilancia, la scelta della via tra i due opposti, l'inizio del sentiero stretto, proprio perché è un sentiero di massimo equilibrio, la via del giusto mezzo, come diceva il Buddha e a cui spesso ci riferiamo. Il capricorno è il quarto di quella croce, la nuova nascita fuori dal mondo della materia. Involuzione, incarnazione, espressione ed ispirazione sono le quattro parole che esprimono la storia della croce cardinale nei cieli, che è la croce dell'iniziato. Ricordiamocelo sempre, questa croce è la croce cardinale, la croce dell'iniziato, che determina le quattro direzioni da prendere affinché si giunga alla completezza del percorso. Dunque, questo succede ogni anno e infatti ogni anno ripassiamo la stessa lezione dello zodiaco che si ripete, si ripete ciclicamente proprio perché ripetendo questo suo ciclo noi comuni mortali impariamo e lo sappiamo ormai che si impara con la ripetizione costante e reiterata affinché quel percorso di crescita via via appaia sempre più piano, percorribile, in tutta sicurezza. E dunque dobbiamo comprendere che questo ripercorrere lo zodiaco, che scorre come uno splendido nastro ideale punteggiato da stelle, ci inonda questo percorso di energie particolari e specifiche di cui noi possiamo servirci per dare quel tocco in più al nostro lavoro di allineamento e sintonizzazione con il disegno divino per quanto riguarda la nostra esistenza. Dunque è molto importante per questo nostro percorso ad ogni passaggio dal segno del cancro, anche se tutto il lavoro non è ancora stato compiuto, quello che si può udire è la nota della possibilità di conseguimento. Quindi sentire che la meta si avvicina che è possibile raggiungerla. E dunque è un profondo stimolo interiore che diviene così forte da far diventare il discepolo un ardente aspirante che si tira fuori dalle acque del desiderio e sforzandosi continuamente si eleva. E sì, poiché tutto il percorso evolutivo è, potremmo definirlo, un sentiero che si eleva come una grande scalinata verso il cielo e man mano compiendo uno scalino alla volta ci eleviamo sempre più. Ogni tanto ci sono dei pianerottoli per farci riposare in questa ascesa, per poi riprendere la risalita di un altro piano. Finché risaliti i sette piani, in questo settenario creativo, giungiamo finalmente all'ultimo piano, la nostra meta, il piano nobile, il piano dello spirito. finalmente svelato nella completezza di ogni forma esperienziata. Eh sì, è proprio così. Questo è il percorso evolutivo. Fare esperienza dello spirito in ogni forma perseguita. Dunque, è un bel percorso che facciamo gradualmente, senza fretta, o come dicevano i latini, festina lente, cioè affrettandoci lentamente. Questa è la saggezza degli antichi latini. Eh, in cancro Dio alitò il respiro vitale nelle narici dell'uomo, di Adamo, e questi divenne un'anima vivente. Queste parole descrivono il rapporto che nella mente di Dio esiste fra spirito, il respiro vitale, l'anima, cioè la coscienza che si incarna, e l'uomo, la forma, la forma che quello spirito attraverso l'anima prende per provare l'ebrezza della manifestazione. Dal momento che un essere umano passa ripetutamente attraverso lo zodiaco nella maniera ordinaria, entra continuamente e consapevolmente nella vita in cancro. La costellazione in cui viene applicata e amministrata la legge di rinascita. Infatti ogni anima, la prima volta che si incarna, si incarna propriamente in cancro. In sostanza, non è il desiderio che provoca il ritorno di una incarnazione, ma l'incentivo primo è il sacrificio e il servizio da rendere alle vite minori che dipendono dall'ispirazione superiore, e cioè quell'ispirazione che l'anima spirituale può trasmettere, e non ultimo dalla determinazione che anch'esse possono pervenire a uno stato planetario equivalente a quello dell'anima che si sacrifica. Dunque avviene anche per le vite minori, che sono il regno animale, vegetale e minerale, tutte le vite cosiddette prigioniere del pianeta. Avviene questa evoluzione ciclica. È un'opportunità per tutti noi esseri umani, ma tutte quelle vite minori di cui i nostri corpi sono fatti. Dunque è un sacrum facere a tutti i livelli e in tutte le dimensioni. Il fatto più importante è che la rinascita di gruppo avviene di continuo e che l'incarnarsi dell'individuo è solo dipendente da quell'evento maggiore. Dunque vi è un evento maggiore in cui tutti gli altri eventi secondari trovano il loro posto. Ebbene, il compito del cancro è di utilizzare il flusso dell'energia disponibile per liberare il principio animico imprigionato in ogni forma materiale. Ecco, la forza del cancro, la forza di quell'impulso vitale che precipita entro le forme. La forma è necessaria alla manifestazione, a tutta la manifestazione. Soltanto la materia può e deve provvedere il veicolo che l'anima utilizza. E certamente solo così l'anima può incarnarsi e fare il suo percorso evolutivo. L'energia in questo segno del cancro può essere diretta in meditazione alla costruzione del nuovo materialismo definito quale giusto uso e sviluppo di tutte le risorse materiali del pianeta finalizzate al bene e al progresso dell'intera razza umana. Dunque, quale grande compito! La luce e l'energia dell'anima devono essere liberate e rivolte in direzione di questa meta. E per compiere questo traguardo, questo compito, possiamo rivolgerci ad una meditazione riflessiva e dunque interiorizzare questo procedimento. Riusciamo a vedere quali e quanti motivi di riflessione questa frase porta con sé. Stiamo costruendo questa casa o ci abbandoniamo ancora e sempre all'illusione? A quel messaggio stregato che ci fa ritenere così egoisti da volere per noi tutto dalla vita? Dobbiamo rifletterci. Siamo disposti a prendere finalmente in considerazione quei doveri verso l'umanità tutta che l'anima non ha mai cessato di comunicarci attraverso la voce o meglio il sussurro del suo cuore? Dovremmo acuire il nostro ascolto affinché possiamo sentire nella nostra interiorità quel sussurro dell'anima che è un sussurro diretto al cuore. E dunque cominciamo veramente a esplorare il nostro cuore nel più assoluto silenzio della mente per scovare in lui la vera sorgente d'amore. Vero, forte, incorruttibile, impermeabile agli aggiustamenti con i quali la mente tenta di rappresentarlo, ma il cuore non può essere rappresentato dalla mente. Nessuna mente può mai contemplare tutta la potenza del cuore. Un cuore aperto, un cuore acceso come quel cuore ardente del Cristo che cerchiamo di emulare e di riprodurre in noi. Proviamo a fare questo mettendo un limite alla nostra espansione personale egoistica per entrare nel cuore dell'umanità e sentirne tutta l'angoscia, la sua sofferenza e la paura che la attraversa. Rendiamoci conto che la paura è un degrado del primo raggio di volontà. Dunque, quando siamo assaliti dalla paura, inevitabilmente perdiamo la direzione e possiamo recuperarla solo se facciamo, troviamo la risorsa, facciamo uso del coraggio. quel coraggio che si eleva sopra quella pesantezza procurata dalla paura e ci svela nuovi orizzonti di azione. Dunque, benvenga il coraggio del cuore. E non abbiamo alcun timore di farlo fluire, poiché l'amore dal cuore è una forza che fluisce, che defluisce per inondare l'ambiente della sua forza creativa. Proviamo a fare questo e dunque mettiamo un limite all'espansione egoistica personale, sentendone quell'angoscia, ma come cellule del grande organismo dell'umanità, abbiamo ora la responsabilità, proprio nel momento di maggiore presenza della luce, di costruire in essa e con essa, pensando e vivendo come anime. Costruiamo una casa di luce in noi, nel nostro cuore. Nessuno potrà distinguerla perché è fatta della più sottile energia che si conosca, quella appunto dell'amore. Costruiamola sulla roccia della volontà di bene, lasciandoci guidare dalla intelligenza del cuore che unisce la mente al cuore e fa agire la mente secondo la visione cardiaca. dunque quell'intelligenza del cuore, quella che non ragiona in termini personali, ma trasmette progetti e necessità globali da costruire attraverso l'unione di gruppi di lavoro. Quindi il lavoro di gruppo è ciò che ci porta questo solstizio d'estate. La spinta in avanti, in termini materiali, deve oggi cedere il passo alla spinta in avanti in termini spirituali. La grande lezione di questo segno e di questo momento ciclico è che dobbiamo riorientare tutto il nostro modo di vivere, finora basato sulla nozione di quantità, per passare alla nozione di qualità del vivere. Quindi dalla quantità alla qualità, poiché nell'amore pervade la qualità ed è essa ad essere riferimento della quantità e dell'abbondanza. Bene, è proprio tutto quello che concerne cancer e questo solstizio d'estate. Ed ora, come sempre, terminiamo con la grande invocazione. dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, dal punto d'amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guida i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Aum 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 Bene, vi ringrazio ancora per la partecipazione a questo sostizio e vi do appuntamento al plenilunio di cancer. Aum 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 Aum